Ah, c'è Corvidal, lo scrittore americano. Domandiamo anche a lui. Buonasera, signor Vidal. Possiamo disturbarla, due minuti? Mi domandate perché mai uno scrittore americano viva a Roma? Prima di tutto perché piace i romani, che si frega niente se sei vivo o morto. Sono neutrali, come gatti. Roma è la città delle illusioni. Non a caso qui c'è la chiesa, il governo e il cinema. Tutte cose che producono illusione. Come fa tu, come fa io. Sempre più il mondo si avvicina alla fine perché è troppo popolare. Gli americani. Troppe macchine, veleni. E quale posto migliore di questa città, molte tante volte e tante volte è rinato, quale posto più tranquillo per aspettare la fine da inquinamento, sovrappopolazione? E il posto ideale per vedere se tutto finisce o no? Tutto. Alla fine.